Sono stati accolti 400 ricorsi promossi dalla CISL e relativi al rimborso dell'IRPEF per i residenti nelle zone del sisma che non si avvalsero a suo tempo della busta paga pesante. I dettagli con Gabriele Bonfiglioli. Parte tutto nel 2016. Dopo il sisma, ai lavoratori dipendenti residenti nel cratere viene permesso di richiedere la sospensione del pagamento dell'IRPEF per il 2017, la cosiddetta busta paga pesante. Tanti rinunciano all'agevolazione perché la legge inizialmente prevede la restituzione per intero e in un'unica soluzione. Nel 2019 la norma cambia, restituzione in 120 rate è solo del 40%. E chi aveva già pagato l'intera cifra in precedenza? Per l'Agenzia delle Entrate non hanno diritto al rimborso perché hanno scelto di non percepire la busta paga pesante, una disparità di trattamento incostituzionale per la Corte di Giustizia Tributaria di Macerata che ha così accolto 400 ricorsi promossi dalla CISL per oltre un milione di euro. Le prime 400 persone già hanno diritto al rimborso IRPEF, sapendo però che chiaramente c'è anche il secondo appello e poi il terzo grado. Però da oggi il dispositivo della sentenza dà loro il diritto ad avere rimborsate le somme. E non finisce qui perché sono tanti ancora i ricorrenti in attesa di giudizio. Coloro che hanno presentato ricorso in questa provincia sono quasi 2000 persone, quindi ci sono ancora altre 1500 ed oltre istanze da verificare da discutere da parte della Commissione. Per sveltire l'iter la CISL chiede aiuto alla politica. Abbiamo messo in cantiere che per altri 3-4 anni se non interviene qualcosa di esterno e bisogna comunque dare battaglia e vincere in tutti i gradi di giudizio.